A Baglia Doliti, in Spagna, non corrida, ma gincana. Partecipano scooter e motociclette. Annaspano i concorrenti in un tracciato più arduo e complicato di un modulo delle tasse. Pedro Gonzales, di professione esattore fiscale, se la cava benissimo. Altri, su macchine di più grossa cilindrata, se la cavano peggio. Gran finale. Come uno scooter, può portare ben 17 persone. Artefice dell'impresa è il campione Virgilio Cagliantes. Ardui i preparativi. Se la cosa prende biede, vedremo presto le motorette non solo cariche di nonne, zie, sorelle, fidanzate, cani, gatti di casa, fatti comunissimi sulle nostre strade, ma anche lontani parenti, cognate, collaterali e suoceri e suocere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.